se riusciamo a... e qui lei ha detto qualcosa dei criti e poi dice di non essere filosofo e beh non sono filosofo sono un lettore no sono... guardi la filosofia è una vecchia passione però non l'ho mai coltivata ma io ho letto il discorso che lei ha fatto in cattolica che è molto filosofico ma guardi c'è una propensione alle buone letture però proviamo un attimo per il grande pubblico io questo qui me lo voglio conservare questa registrazione è una di quelle che conserverò gelosamente ma caro la ringrazio domine non sono digno no non dica così non dica così noi proviamo e poi direi la seconda parte invece che andiamo un po' a questioni d'attualità e lì le chiedere un po' per esempio sulla base delle sue riflessioni ma domande generali il ruolo dell'etica il ruolo della la filosofia oggi quale potrebbe essere diciamo il ruolo della filosofia nel non so lei nella potenza della potenza dell'errare nell'introduzione parla dell'apparato scientifico tecnologico che ovviamente è destinato ad incrementare sempre più la sua potenza e quindi sembrerebbe assorbire distruggere demolire lo stato le organizzazioni internazionali vedo che è inutile che io parli perché lei sa già tutto no 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 ecco questo potrebbe essere un altro poi ad esempio anche in qualche altro passaggio la sua riflessione fa la differenza fra stato e impresa capitalistica l'una riduce il rischio l'altro incrementa il rischio si pongono in contrapposizione altri due concetti che potrebbero ecco in un dibattito politico interessare quindi ogni soltanto ripeterò quello che dice lei efficienza solidarietà poi mi dica qualche domanda mi dica anche qualche domanda ma va benissimo va benissimo però mi dica anche qualche suggerimento mi dica qualche suggerimento qualche tema che potremmo toccare io partirei dal fatto che lei è qui a Brescia per presenziare agli unioni industriali cioè un momento dalla storia del capitalismo perfetto facciamo una conversazione diciamo culturale in questi termini perfetto perfetto e poi però nella parte finale facciamo una seconda parte della un po' più va bene professor Severino io la ringrazio molto per aver accettato la aver offerto la disponibilità per questo incontro no io che ringrazio lei per questa visita che mi onora e che e che vedo che si perpetta interessante perché ci mettiamo sul piano culturale sicuramente insomma è bello raccogliere alcune sue riflessioni e le stiamo anche registrando quindi nella prospettiva di poterli offrire a un pubblico ampio credo che sarà una bella testimonianza questa sul piano culturale ne verrà fuori sicuramente io oggi sono a Brescia perché e quindi di qui anche l'occasione di venirla a trovare perché c'è stato un incontro organizzato al Corriere della Sera sulle imprese le imprese familiari c'è stata una intervista da parte del direttore Fontana del Corriere della Sera che mi ha fatto e c'è stata un po' una riflessione sul ruolo dell'impresa io partirei proprio da qui ecco dal ruolo del capitalismo nella congiuntura attuale il ruolo dell'incesto credo che uno degli equivoci maggiori in proposito siano quelli che si riferiscono all'indistinzione tra capitalismo e strumento tecnico di cui capitalismo si serve per esempio penso che non molto tempo fa lo stesso Mieli mi pare su Corriere della Sera parlasse della tecnica come dello strumento in mano al capitalismo e invece non sono complementari stanno insieme ma avendo scopi diversi allora un altro tratto che viene dimenticato è che questo lo sapeva già Aristotele lo scopo di un'azione determina il modo in cui l'azione si configura se cambiamo lo scopo di quell'azione l'azione cambia se lo scopo di un medico è di guarire la sua azione ha una certa configurazione che è diversa da quella che sussiste quando il medico ha lo scopo di guadagnare sembra che facciano le stesse cose ma sono sostanzialmente diverse vorrei arrivare a far vedere che il capitalismo è costretto a cambiare scopo allora riprendiamo dal punto in cui se la faccio troppo lungo lei me lo dice che assolutamente riprendiamo dal punto in cui dicevo che si confonde capitalismo e tecnica perché lo scopo del capitalismo è l'incremento del profitto privato e anche se il capitalismo non lo dice spesso esplicitamente intende che lo scopo di una società o mira che lo scopo di una società sia l'incremento indefinito del profitto privato non lo dice esplicitamente anzi delle volte fa vedere che si interessa al bene comune seguendo l'insegnamento per esempio della Chiesa ma la Chiesa gli fa questo insegnamento perché capisce che invece lo scopo del capitalismo è diverso da quello del bene comune lo scopo invece della tecnica e se ne discutessimo un po' con un tecnico vedremmo che a un certo momento sarebbe d'accordo su questo che lo scopo della tecnica è l'aumento e l'incremento indefinito non del profitto privato ma della potenza e cioè la formula che uso è incremento indefinito dalla capacità di realizzare scopi allora sono due scopi divergenti se lei ha voglia di continuare la conversazione si tratta di vedere che questi due scopi divergenti portano al tramonto del capitalismo e insieme al tramonto e questo penso che possa interessare in particolare un politico che è presidente del Consiglio dell'Italia portano anche al tramonto della politica ma qui posso fare una parentesi che lei come presidente del Consiglio è un politico di più di rilievo oggi esistente in Italia ma è anche un giurista cioè uno scienziato del diritto e in quanto scienziato del diritto appartiene a quella dimensione tecnica che è destinata a prevalere sulla dimensione politica quindi io vedrei in lei un doppio piano in cui quello tecnico giuridico scientifico è destinato a prevalere su quello politico lo so che ho del corso duro per un politico ricordo nel volume la potenza dell'errare che lei ha dedicato anche un paragrafo ai governi tecnici sì ragionando all'epoca di Monti evidentemente ecco quando il teorema principale in questa dimensione del discorso è che la tecnica è destinata al domino quindi bisogna intendersi sul significato della parola tecnica ma bisogna intendersi anche sul fatto che i governi tecnici come quello di Monti o come altri che ci sono stati in Europa e come a mio avviso è in qualche modo il suo ecco questi governi tecnici sono in qualche modo l'anticipazione il protendersi verso quella situazione che il sottoscritto chiama dominazione della tecnica perché sono un protendersi e non l'esserlo già perché la tecnica in queste forme di governi tecnici di cui le due principali in Italia vedei quella di Monti è la sua io negherei che il mio sia un governo tecnico ma sto seguendo il suo rischio è chiaro che lei non intende essere non intende promuovere un governo tecnico però altro è quello che il politico crede di essere quello che è allora stavo dicendo che il governo tecnico non è ancora la dominazione della tecnica la quale alludo perché è ancora gestito ideologicamente ora per ideologia non intendo quella povera cosa la quale normalmente ci si riferisce quando dice vecchio apparato l'ideologia nel senso di grande della parola dove ad esempio anche se i portatori di queste ideologie amano non sentissero dire è ideologia la democrazia è ideologia come era ideologia il comunismo è ideologia impernato su idee forti ma è ideologia anche cristianesimo quindi è ideologia l'islam è ideologia l'ebraismo è ideologia la grande la grande dimensione umanistica dell'occidente allora un governo tecnico quale si sono formati in Italia e in Europa è un governo che ha come scopo l'ideologia dalla quale è guidato si tratta di vedere si può far vedere direi quasi anzi dico quasi per modesti amore geometrico che la gestione ideologica della tecnica è destinata ad essere sostituita dalla gestione tecnologica della tecnica e si può dire anche così la gestione politica della società è destinata ad essere sostituita dalla gestione tecnica della società quindi non dobbiamo confondere la politica con la politologia ecco ma perché la tecnica è così vorace così vorace ecco così assorbente così anche nella sua riflessione perché è questa propensione per il dominio assoluto per cui non riconosce altro da sé ottimo ottimo allora vediamo com'è la situazione ci sono oggi nel mondo delle forze che intendono servirsi della tecnica perché cosa è per imporre il loro scopo la democrazia si serve della tecnica non per realizzare un mondo capitalistico come dice in qualche modo anche Sartori in quel bell'articolo che è stato pubblicato qualche giorno fa sul Corriere un articolo inedito un vecchio ecco lo scopo della tecnica della democrazia è di realizzare un mondo di uguaglianza libertà possiamo aggiungerci anche fraternità altre forze intendono realizzare scopi diversi allora qui cominciamo a entrare nella risposta a quello che lei mi ha domandato perché c'è questa voracità lei ha detto della tecnica ecco è una parola interessante voracità io parlerei di necessaria sopraffazione delle forze antagoniste perché si verifica questo quindi ci sono queste forze che sono tra di loro in conflitto perché la democrazia è in conflitto col capitalismo e la democrazia non vuole come scopo ultimo l'incremento definito del profitto del profitto individuale privato il capitalismo non vuole che lo scopo ultimo della sagittà sia libertà e uguaglianza fraternità il cristianesimo non vuole né l'uno né l'altro vuole che lo scopo della sagittà sia il bene comune è un concetto anche questo aristotelico l'islam vuole a sua volta un bene comune islamicamente concepito così si dica dell'ebrahimo allora per combattersi e prevalere le une sulle altre perché non se ne stanno lì pacifiche ad assistere quello che fanno ecco sono in conflitto per prevalere si servono della forza maggiore oggi a disposizione dell'uomo e la forza maggiore oggi a disposizione dell'uomo è la tecnica guidata dalla scienza moderna qui ci serve una parentesi da fare sul fatto che ieri invece la forza maggiore era la preghiera era la preghiera che risolveva i problemi per i cristiani che risolveva i problemi dell'uomo uno dei sintomi del tramonto della tradizione è che non più la preghiera si prega poco ecco si prega poco ma anche se si pregasse molto oggi il tempo è quello che ha detto addio al passato e crede che la forza maggiore con la quale si possa ottenere ciò che si vuole sia la forza tecnica guidata come diceva la scienza moderna allora il quadro è questo molte forze tra di loro in conflitto le abbiamo nominate che si servono di una frazione dell'apparato tecnico tecno-scientifico quando parlo di tecno-scienza intendo un sistema di sottosistemi perché ci sono le scienze dure matematica fisica ma ci sono anche le altre scienze che vanno via via tante discipline certo ma anche istituzioni burocrazia apparato militare apparato sanitario apparato scolastico che vanno configurandosi conformandosi alla concettualità che è propria dell'ateni delle scienze delle scienze to cure in questa situazione dunque di conflittualità e come fa una di queste forze che adesso non continueremo a nominare perché le abbiamo nominate prima come fa una di queste forze a prevalere sull'altra e rafforzando lo strumento che le consente potenza ecolo scientifico tecnoscientifico lo strumento tecnoscientifico certamente allora in questo rafforzamento consideriamo due forze due qualsiasi di queste forze in questo rafforzamento essa si porta al di sopra di quella che ancora non ha rafforzato il proprio strumento la quale operisce o deve a sua volta rafforzare il proprio strumento portandosi al livello della precedente forza ora questo gioco continua e sta continuando ma è chiaro che quanto più una forza potenzia e assume come scopo il potenziamento del proprio strumento tanto più è vincente raffiguriamoci lo scopo di una di queste forze con un cerchio prima il cerchio occupato poniamo dal dallo scopo democratico libertà e guerra poi la democrazia stiamo più realisti oggi la forza più potente è il capitalismo più ancora della democrazia allora prima lo scopo del capitalismo questo cerchio occupato incremento del profitto privato il capitalismo per prevalere deve potenziare il proprio strumento ma potenziarlo in modo che incominci a entrare nello scopo che inizialmente era occupato soltanto dall'incremento del profitto privato estende la sua sfera di influenza e di applicazione è certo ma cosa vuol dire questo che lo scopo inizialmente puro del capitalismo è progressivamente condiviso dal potenziamento della tecnica sì che a un certo momento ci sarà una situazione in cui di fronte a una forza antagonista che a sua volta ha potenziato lo strumento tecnico quale sarà delle due la vincente e la facevo anche a ciocca questo 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 anche lui non è che abbia detto no ho detto è più forte una potenza che assume come unico scopo l'incremento del profitto oppure è più forte una forza che oltre ad assumere come scopo il proprio poniamo la democrazia libertà assume anche il potenziamento del profitto se da un lato c'è unicamente si vuole la potenza e dall'altro oltre alla potenza si vuole lo scopo specifico di quella forza quale sarà delle due la vincente quella che ha unicamente come scopo la potenza della potenza dello strumento è d'accordo su questo? no la seguo molto bene la seguo molto bene solo che questa è una prospettiva ferale perché siamo tutti asserviti e ovviamente da da uno scopo che diventa un mezzo come nella sua prospettiva filosofica certo c'è l'inversione il capitalismo può sopravvivere non più come capitalismo ma come mezzo di cui la tecnica potrà servirsi per realizzare la potenza per questo che dico che sarà vincente quella forza politica la quale capendo questo non inquinerà più il proprio scopo con determinazioni di carattere ideologico ma assumerà come scopo la tecnica e quella sarà la grande politica vincente e sarà vincente anche se lo scontro sarà dato poniamo tra Russia e da una parte Stati Uniti dall'altra da ultimo se la Russia e gli Stati Uniti non rinunceranno rispettivamente alla propria tra virgolette russicità e statunitensità al proprio essere Russia e al proprio essere Stati Uniti se non rinunceranno e una delle due invece rinuncerà e badrà al potenziamento della tecnica allora sì in un primo tempo crederemo che avranno vinto gli Stati Uniti ma non saranno gli Stati Uniti ad aver vinto sarà la tecnica che si chiamerà ancora Stati Uniti ma che sarà l'attività che si propone come scopo non gli valori e le configurazioni degli Stati Uniti ma il potenziamento quel potenziamento della tecnica che conduce a uno stadio che non è quello definitivo perché poi anche la tecnica è destinata al tramonto ma qui andiamo a un discorso più difficile ma dentro la sua prospettiva quando ragiona di tecnica c'è tecnologia e c'è scienza c'è tutto un apparato tecnologico scientifico c'è tutto giusto? giusto perché perché dopo che la scienza ha rinunciato ad essere verità incontrovertibile allora in base a che cosa si decide la validità tra due teorie scientifiche non in base alla loro verità perché la scienza ha detto addio alla verità incontrovertibile ma in base alla capacità di una delle due di trasformare il mondo se una delle due teorie è più capace dell'altra di trasformare il mondo allora quella la chiameremo vera usando una vecchia parola che però vorrà dire potente ma questa è la tecnica quindi è per questo che i confini tra scienza e tecnica ai quali lei alludeva vengono meno quindi secondo lei c'è stata la svolta quando nell'ambito scientifico nell'ambito delle varie discipline specifiche discipline si è iniziato a porre per esempio i fondamenti della matematica le geometrie non equilidee quando è venuta fuori la crisi della certezza scientifica e allora che c'è stato l'abbraccio con la scienza cade in braccio alla tecnica sì e si può andare anche più a fondo di questo perché la logica in base alla quale poniamo la geometria non equilidee eliminano eliminano si aggiungono alla geometria euclidea non può essere una logica assoluta quindi è una forma di ipotesi che si dimostra capace di convivere con un'altra più vecchia forma di ipoteri ma l'elemento decisivo di questo processo che si verifica anche il capo giuridico perché il capo giuridico dunque alla geometria euclidea la geometria euclidea sta quella non euclidea come il campo giuridico il diritto naturale sta il diritto positivo mi aspettavo mi aspettavo un parallelismo però oggi è chiaro che chi difende i valori del passato deve tenere fermo il diritto naturale di cui oggi c'è qualche reviviscenza in campo ci sono dottrine neonaturalistiche però è anche chiaro che va prevalendo il diritto positivo così come la democrazia in democrazia va prevalendo la democrazia procedurale rispetto alla democrazia che si ispira secondo la tradizione alla verità alla verità allora stavo dicendo prima lei mi dica se la tiro troppo in lungo assolutamente la seguo dunque stavo dicendo prima che il tratto decisivo di questi fenomeni in cui ecco al diritto naturale si sostituisce il diritto positivo alla geometria euclidea si studia le geometrie non euclidee all'arte formale si sostituisce l'arte astratta una musica tonale ecco a questi atteggiamenti questi atteggiamenti sono sottesi ecco qui andiamo camminiamo sui carboni ardenti soprattutto perché c'è di mezzo anche la convenzione religiosa e c'è un fenomeno essenzialmente più decisivo che è ciò che chiamo il sottosuolo del sottosuolo filosofico degli ultimi 200 anni detto così insomma alla spiccia nella tradizione si crede che se non esiste l'eterno che poi è il divino il divenire del mondo è impossibile il divenire del mondo è impossibile solo se esiste un eterno negli ultimi 200 anni e purtroppo noi italiani dovremmo questo farlo dirlo più ad alta voce rispetto ai nostri amici stranieri perché ci sono almeno due protagonisti oltre amici e questi due protagonisti sono Giovanni Gentile e prima di Gentile di Nietzsche Leopardi i quali possono essere espressi in questa formula che li accomuna se esiste l'eterno non può esistere il divenire del mondo ma il divenire del mondo è l'evidenza innegabile perché se uno dice no non c'è divenire pazzo quindi non può esistere l'eterno ecco a questo punto si tratterebbe di vedere se ne interessa si può vedere ma si tratterebbe di vedere che qual è il fondamento di questo asserto grave che mostra l'impossibilità di un eterno cioè di quell'eterno che qualifica il divino perché anche dal punto di vista cristiano se Cristo non fosse stato eterno l'incarnazione di Cristo sarebbe il passaggio da una carne all'altra quindi è quella cosa mirabile che i cristiani giustamente adorano perché non è il passaggio da una carne all'altra ma è il passaggio è l'incarnarsi dell'eterno è l'eterno che diventa carne pur rimanendo eterno pur rimane eterno ecco chiudendo il discorso a questo punto dov'è la lacuna di quanto ho detto è richiamare il motivo concreto in base al quale si dice che se ci fosse l'eterno non ci potrebbe essere divenire se vogliamo una formula tanto per non lasciare gli eventuali ascoltatori a bocca asciutta potremmo dire e l'eterno anticipa tutti i tempi Dio non può essere uno che di fronte a un evento dica non me l'ero aspettato no non sarebbe Dio Dio contiene tutto in sé non solo ma non può rimanere sorpreso di fronte a qualsiasi novità la più radicale che essa sia Dio non si sorprende di nulla allora ha in sé la totalità del tempo ma se ha in sé la totalità del tempo ecco qui il nucleo del distruzione dell'eterno se ha in sé la totalità del tempo allora il divenire del mondo è apparenza non per nulla c'è un capitolo importante della logica di Gentile che parla di serietà della storia la storia è seria solo se alle spalle non ha un tutore che anticipa in sé tutto ciò che può accadere e qui siamo nel centro del problema metafisico e la metafora della bobbina della bobbina è quella riguarda è l'alternativa a questo discorso perché ecco in tutto quanto ho detto il sottinteso era stiamo parlando della tecnica stiamo parlando della tradizione dell'Occidente stiamo parlando della distruzione di questa tradizione ho parlato di questa distruzione perché la tecnica destinata al dominio forse l'avevo già detto prima non è la tecnocrazia alla Saint-Simon o alla Webelin la tecnica destinata al dominio è la tecnica che sente la voce che dice se ci fosse un eterno non ci sarebbe il divenire allora l'eterno non c'è ma allora ogni azione dell'uomo non ha un limite che invece si costituisce quando si crede che ci sia un eterno e infatti un uomo di scienza religioso può spingere la propria audacia scientifica fino a un certo punto ma non oltre quei limiti che vengono costituiti dal suo riconoscere l'esistenza dell'eterno l'alterità dell'eterno ecco allora la tecnica di cui destinata al dominio è una tecnica che ascolta la voce e ancora non la sta ascoltando ascolta la voce di quello che prima chiamavamo sottosuolo del pensiero filosofico contemporaneo ma potremmo dire sottosuolo della contemporaneità perché qui dovrebbe emergere un po' che la filosofia non sta nelle nuvole ma il terreno in cui cresce l'occidente bene allora per rispondere alla sua domanda ho incominciato a dire abbiamo parlato della tecnica abbiamo parlato della tradizione dell'eterno abbiamo parlato della distruzione dell'eterno che autorizza la tecnica a andare oltre ogni limite ma tutta questa è la storia della follia e a questo lei alludeva mi pare quando prima mi ha detto la metafora della bovina la metafora della bovina la totalità del positivo le faccio le mie congratulazioni perché vuol dire che lei è dentro queste cose ma non sono dentro ma sono un suo lettore sono curioso dal punto di vista perché allora tutto questo discorso è una storia della follia estrema che conduce alla tecnica perché la logica di partenza è il riconoscimento del diventare altro delle cose una volta che si parte da qui allora è inevitabile arrivare alla dominazione della tecnica ma questo quadro la validità di questo quadro dipende dal chiodo al quale il quadro è appeso e il chiodo è la fede nel divenire altro delle cose dove il divenire altro vuol dire non un concetto filosofico semplicemente ma una qualsiasi cosa che diventa altro si strappa da se stessa e non solo si strappa da se stessa ma invade l'altro quindi nel concetto del diventare altro e insita una violenza del diventare altro che non viene mai percepita ma si crede anzi che la vita non ci sarebbe se non ci fosse questo diventare altro allora lei mi domanda e la domanda era perpendicolare e la bobina ecco la bobina è l'immagine che popper ha usato parlando con Einstein sulla relatività estaniana sulla relatività popper l'ho scritto tante volte ma sono ripetite in questo caso no la sto annoiando assolutamente no però qualcuno ci ascolterà quindi la prego di ripeterlo allora popper chiamava Einstein parvenide Einstein ci lasciava chiamare parvenide e perché perché popper diceva Einstein la teoria della relatività spazializza il tempo nel senso che i fenomeni non è che avvengano uno dopo l'altro non sono un diventare altro non avvengono uno dopo l'altro ma ci sono già tutti dalla più antica antichità alla più futura posterità allora sono già tutti e infatti abbiamo quella lettera che vedo che ormai tutto quello che le dico non può che annoiarla perché lo sai già no no dunque c'è quella lettera di Einstein in questo momento mi sfugge il nome mi pare benso alla sorella di quell'amico di Einstein che era morto e Einstein dice alla sorella non si capisce che noi per noi fisici il futuro non è meno reale del presente e anche il passato non è meno reale del presente ma sono tutti reali nello stesso modo e con la stessa intensità allora sono già tutti lì da che cosa deriva l'impressione del divenire dal fatto che sono come dei fotogrammi della bobina che nella metafora esistono tutti avvolti nella bobina quindi non è che ci sia qualcosa che non esiste ancora e qualcosa che non esiste più ma tutti avvolti vengono progressivamente proiettati e allora si ha l'immagine del divenire una serie di positività nel cerchio immutabile dell'essere si crede che appunto quello che viene prima sia ciò che non esisteva ancora e quello che viene dopo sia ciò che non esiste più e però Popper domandava a Einstein ma e la bobina la bobina dove sta e sappiamo che Einstein non sapeva rispondere non sapeva rispondere perché non aveva in mano le categorie filosofiche che consentirebbero la risposta teniamo presente che Popper è uno dei più accesi sostenitori del divenire tanto che addirittura scrive Popper qui è fallace ma è fallace come gli altri perché scrive l'unico non parmenideo è Heisenberg perché tutti gli altri ovviamente Einstein ma Schrödinger Gauss non Gauss il fratello della Weill tutti sono parmenidei il che non è vero perché tutti ammettono una dimensione in cui c'è il divenire allora anche Popper crede nel diventare altro e zittisce questa voce che non sapeva difendere se stessa una grande voce della relatività quando lei mi dice è la bobina ecco allora dobbiamo uscire da questa immagine che Popper usava contro Einstein per mettere in questione ciò che prima chiamavo il chiodo del quadro cioè il quadro cioè la situazione mondiale e il modo in cui il mondo crede che le cose esistono il quadro e il chiodo che cos'è è la fede che tutti crediamo di avere che esista un diventare altro questo diventare altro avevo prima incominciato a dire non è una cosa molto innocente perché contiene quella violenza dello strapparsi da sé e invadere l'altro che già incomincia a mettere sul chi va là anche se non si può fare filosofia dando per scontato che non si può essere violenti e questo è uno dei punti più importanti che io cerco di trasmettere ai giovani la filosofia è la pregiudicatezza assoluta che non può partire da un'etica dice nemmeno dall'etica che sostiene la dignità dell'uomo e mette tutto in questione e quindi se l'uomo deve essere difeso e ha una dignità questo deve emergere dal discorso filosofico da un discorso fondativo non può essere un apriori è un apriori se è fondato altrimenti è una fede e allora non può essere un apriori deve essere un apriori però rispetto alla sua riflessione filosofica che se fosse mia non avrebbe nessun valore è che in ognuno di noi c'è Tizio Caio Sempronio ma c'è ben di più c'è quel di più che consente di affermare incontrovertibilmente qualcosa quindi dire la sua prospettiva filosofica la sua filosofia è riferirsi a qualcosa che in quanto mio non ha nessun valore ma amo questa metafora l'uomo è un re che crede di essere un mendicante noi crediamo di essere mendicanti cioè cose che hanno la loro filosofia ma in ognuno di noi c'è quella regalità che consente ecco il pari importante è questo quel conoscere facce ad facce che per il cristianesimo è possibile soltanto nella situazione paradisiaca dice l'apostolo Paolo noi vediamo per speculum in enigma ora vediamo attraverso uno specchio in enigma tunc tunc facce ma tunc in paradiso ma è possibile in paradiso che un uomo dica davanti a Dio bello ma chissà se è vero no non sarebbe paradiso anzi sarebbe una situazione para infernale perché di fronte ad un'estrema bellezza e rassicurazione ci sarebbe il dubbio che fosse un inganno che fosse un demone maligno quindi il paradiso è la situazione in cui il sapere è incontrovertibile ebbene si tratta di prendere coscienza del fatto che questo sapere incontrovertibile che per Paolo è solo nella situazione paradisaca invece è presente in ognuno di noi anche se è mascherato coperto dalla persuasione che noi siamo in un mondo diveniente dove esiste la volontà di far diventare altro le cose la volontà che diventa stato che diventa potenza che diventa tecnica quindi un'altra concezione dell'uomo ah si altissima ah si anche se nelle riflessioni che che qui sintetizza non sembrerebbe esserci uno spazio dedicato all'etica ecco qui andiamo nel delicatissimo perché l'etica presuppone almeno come tradizionalmente intesa una partizione anche della stessa filosofia l'etica presuppone ma già sin dal racconto vetero testamentario del peccato di Adamo quando Dio dice ad Adamo non mangiare di quel frutto glielo dice perché sottintende che Adamo poteva mangiarlo o non mangiarlo quindi già nel discorso nel racconto vetero testamentario è affermata ciò che diciamo libertà dell'uomo libertà dell'uomo che poi vuol dire che ciò che decido avrei potuto non decidere ciò che non decido avrei potuto decidere il primo elemento che dovrebbe far pensare è che la libertà dell'uomo non è un dato di esperienza perché come non è un dato di esperienza la contingenza quella contingenza per cui crediamo che il nostro incontro di questo momento sarebbe potuto non esistere e che tutti gli eventi o la maggior parte degli eventi di questo mondo sarebbero potuti non esistere e perché dico che non è un dato di esperienza che quindi non è un qualcosa come che come diceva Cartesio è evidentissimo autoevidente autoevidente ma perché allude a ciò che il mondo sarebbe stato qualora non fosse apparso ciò che è apparso ma quindi allude a qualcosa che non è apparso ed è una contraddizione allude a un contenuto metafisico che per essere la cui esistenza per essere affermata e richiede una capacità dimostrativa che invece non sussiste mai nei difensori del libero arbitrio allora lei mi diceva prima e di mezzo all'etica questa era la sua domanda ma è chiaro che quando lei mi ha fatto questa domanda sottintendeva l'etica in cui viga il libero arbitrio perché sa qualche accusa che lei ha ricevuto lo sa che c'è un certo determinismo nella sua riflessione allora da un lato rispondo c'è un super determinismo super dall'altro lato rispondo no la opposizione tra chiamiamolo contingentismo il difensore della la difesa della libertà e determinismo stanno sullo stesso piano perché sono due lottatori che lottano sullo stesso ring e il ring che cos'è è la fede nel diventare altro solo che il contingentista crede che il diventare altro è un processo in cui le cose sarebbero potute andare diversamente da come sono andate laddove il determinista crede che il diventare altro cioè le cose non potevano andare diversamente da come sono andate allora da questo punto di vista la cosiddetta mia che per quello che diciamo prima sarebbe improprio improprio la cosiddetta mia posizione sta al di là dell'opposizione tra determinismo e contingentismo tra amici e nemici della libertà tra amici di Dio e nemici di Dio perché gli uni e gli altri gli amici di Dio credono che il divenire sia possibile solo se c'è un Dio i nemici di Dio credono che il divenire richiede che Dio non ci sia ma tutti credono nel divenire altro e invece questo discorso metti in questione diventerà altro far vedere come lo metti in questione andremo nel difficilissimo professore ma per la scienza ritornando al discorso del dominio che facevamo prima evocando e ragionando di scienza e tecnica innanzitutto la colpisce un po' che in alcune scienze si rimettano in discussione i vecchi postulati faccio un esempio per esempio in economia che è stata costruita tradizionalmente sulla scelta razionale l'uomo come l'uomo economicus scelta razionale passioni bisogni altri tutti fuori ma adesso invece ci sono tanti indirizzi economici che mettono in discussione riconoscono che ci sono sentimenti alti rispetto a quello del profitto dell'agire del profitto la colpiscono questi nuovi indirizzi secondo lei si può ragionare di buona economia cattiva economia la tendenza generale è quella della specializzazione specializzazione scientifica oggi si crede per lo più ma credo che anche nelle scienze giuridiche sia così che sia serio un discorso che solo sia specialistico la globalità viene vista come la giusta posizione degli specialismi e volendo usare una metafora sarebbe come se si concepisse un insieme di coppie separate separate sin dall'inizio e che poi le si volesse unire è chiaro che se sono separate sin dall'inizio l'unione è accidentale allora data la specializzazione è inevitabile che venga fuori quel tipo di economia che si chiude in se stesso e parla dell'homo economicus come se fosse un qualche cosa di reale di autosufficiente di studiabile di per se stesso ma questo dipende dallo specialismo lo specialismo dipende dal senso del diventare altro anche questo sarebbe duro a mostrare ma si può mostrare c'è specialismo solo in quanto la scienza percepisce che lo studio del diventare altro diventa uno studio che consente di trasformare il mondo solo se si isola una parte del mondo e la si considera indipendente dalle altre parti allora effettivamente con questo processo si ottengono forme ritenute di potenza sul mondo a questo punto se facessimo il discorso forte dovremmo dire che la potenza che noi crediamo che esiste è appunto una potenza creduta solo opinata opinata bravissimo opinata opinata e questo è una graviattura il compartimento le discipline il sapere a compartimenti stagni certo è lo specialismo come dice anche Edgar Morin il grosso problema del nostro tempo certo certo ma è appunto il problema lo specialismo oggi la scienza riesce a trasformare il mondo cioè a far sì che gli uomini credano che il mondo sia trasformato dall'operare scientifico e questo sarebbe interessante mostrare perché c'è questo credere solo specializzando sì ma diciamo perché è un credere tirando fuori ancora una volta quell'autore che non è che mi mandi in veri video ma però ha certi contributi Popper 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 dice a un certo momento che se Robinson Clausew avesse scoperto tutta la scienza in quell'isola deserta in cui si trovava tutte le sue scoperte non avrebbero valore scientifico proprio con l'acqua proprio non vuole un goccino di vino no no la ringrazio vuole un po' d'acqua con lei? no grazie c'è anche per lei non avrebbe nessun valore scientifico perché perché la scienza richiede il riconoscimento interso oggettivo se qualcosa è vero solo per me ma non per lei o per altri non è scientifico da questo punto di vista chiedo scusa per la battuta già Dio creatore era scientifico perché mostra la propria gloria e gloria significa appunto il mostrarsi in modo da essere riconosciuto dall'uomo o da uno spettatore quindi c'è una continuità tra l'atteggiamento religioso e l'atteggiamento scientifico allora c'è scienza solo se c'è riconoscimento intersoggettivo ma primo noi dell'altro anche se il più intimo il più amato il più vicino vediamo il comportamento non vediamo l'anima cioè ciò per cui è altro che sia altro che questa interiorità esista è un'interpretazione uno ha maggior ragione che esista una società di altri è una superinterpretazione allora che ci sia un riconoscimento intersoggettivo della potenza non è un dato fenomenologico un dato di esperienza ma è da capo una super super interpretazione allora super super interpretazione vuol dire una fede perché interpretare vuol dire aggiungere con la volontà a qualcosa che si manifesta qualcosa che non si manifesta guardo in un in un telescopio vedo una luce e dico quella è una stella però propriamente è una luce è una lucina c'è un salto logico è una è un'aggiunta che quella lucina sia una stella un'aggiunta che non è data da quella breve esigua luminosità che è data da ciò che vedo nel telescopio allora primo l'altro è il contenuto di una fede che ci sia un altro è una fede è una fede che esiste una società è una fede che esiste un riconoscimento intersoggettivo della potenza quindi che esista la potenza non è un dato oggettivo ma è il risultato dell'adesione a questa che abbiamo chiamato super super fede è per questo che dico che la potenza partiamo dall'inizio del guerriero dell'uomo della pieta del guerriero del militare del politico del monarca della tecnica non è un qualche cosa di oggettivo ma è il contenuto di una fede che consolida la tesi apparentemente pazzesca della bobina per la quale diciamo allora la tesi in positivo tutto è eterno perché se non c'è il diventare altro vuol dire che tutto è eterno e vuol dire che per esempio questa nostra conversazione è un eterno che prima non appariva e ora appare e poi scomparirà quindi un problema di apparire e non apparire non apparire ecco dove il concetto di apparire è qualcosa di diverso da ciò che la scienza sa della coscienza perché si tratta dell'apparire in senso trascendentale e non empirico ma le chiedo lei personalmente non ha avuto mai quindi la tentazione Orkheimer diceva la nostalgia del totalmente altro non ha avuto mai la sensazione di perdere qualcosa nella capacità di rappresentare questo essere no dunque io sono nato in una famiglia cattolica mio padre aveva due zii gesuiti e due sorelle due fratelli gesuiti e due sorelle suore gli zii gesuiti dissero a mio padre fammi studiare dei gesuiti che allora era una breccia adesso non ci sono più e quindi sono stato abituato al cristianesimo e però abituato a un certo tipo di fede se mi permette a una conoscenza della dottrina cristiana profondissima si vede che c'è scritto è una grande cosa il cristianesimo per cui non conoscerlo è una grande lacuna fustibus ververa fustibus agendum est per chi non lo conosce fustibus agendum est cretavano dicendo dunque ah ecco no non ho avuto la sensazione di perdere qualcosa ma di guadagnare qualcosa perché se teniamo fermo quello che dicevamo prima che il facce at facce la situazione paradisiaca non è da attendere in un al di là ma è già qui e allora rispetto alla situazione paradisiaca la fede passa in secondo piano tanto è vero che in paradiso non ci sarà fede la fede è una virtù mondana vai se in paradiso ci fosse fede beh certo lì c'è la c'è faccia a faccia l'immersione diretta ecco c'è faccia a faccia di cui parlavamo prima certo e lei ha scritto tantissimo le riformulo la domanda che l'ho fatto ma da altro punto di vista ricorda quella famosa lettera di vita che città quando scrive all'editore non mi ricordo se era Fischer forse il detto e non detto forse le parole le cose più importanti sono quelle che non ho scritto c'è qualcosa che non ha scritto che pensa no in me forse è il contrario cioè mi considero una povera cosa ecco perché sono uomo mendicante sono re come ognuno di noi allora in quanto mendicante insomma è quello che no direi che sì questo è un periodo lo dicevo in un'intervista in cui prendo appunti ma perché poi divengano un libro cioè non ho qualcosa che mi rammarico di non aver scritto ma che varrebbe la pena di scrivere quindi mi confesso sono quello lì non c'è da cercare qualche cosa di più profondo anche se penso che come il mendicante non è il re così i miei scritti non sono il contenuto dei miei scritti e qui un'immagine cinese potente che uso spesso è il dito che indica la luna non è la luna i miei scritti sono il dito ma la luna è il re che c'è in noi ma che è diversa dal dito professore cosa che messaggio noi lasciamo ai giovani comunichiamo ai giovani ma il messaggio è questo prima di tutto che l'uomo è infinitamente di più di quello che crede di essere infinitamente di più due che d'altra parte non è che con questi discorsi riusciamo a saltar fuori da quella volontà che vuole trasformare il mondo e farlo diventare altro non è che parlando così come parliamo riusciamo a ottenere una catarsi che ci porta al di fuori del volere e quindi della violenza quindi con questo discorso ci troviamo però in una situazione in cui quando questo discorso appare nella sua incontrovertibilità quando il contenuto di questo discorso appare nella sua incontrovertibilità e allora ciò che facciamo appare come alienazione come errore domandavano a Gesù quante volte dobbiamo perdonare diceva sette volte sette e qui si tratta di perdonare settemila volte sette perché ogni cosa che facciamo anche la più innocente è violenta però altro è essere violenti sapendo di esserlo e allora la violenza ha un volto altro è essere violenti senza sapere di esserlo come per lo più accade e allora la violenza ha un altro volto allora ai giovani direi questo discorso incomincia già a dare un altro volto alla violenza qualora voi lo capiate qualora divenga una convinzione incomincia a diventare a a portare alla luce una violenza diversa da quella che prima è apparsa due o tre ogni uomo di potere dice agli altri che cosa devono fare e quindi vuole che gli altri agiscono in modo a far diventare altre cose in un certo modo questo discorso che se scrivessi metterei la lettera maiuscola non dice agli altri che cosa devono fare ma mostra che cosa i popoli sono destinati a volere allora non è che i giovani ci rivolgiamo dicendo voi dovete fare questo e questo e questo ma voi siete destinati a questo questo e questo e a che cosa intanto siete destinati beh intanto siete quella duplicità rilevante che è data dal binomio re-mendicante in secondo luogo abbiamo detto se voi siete persuasi di questo discorso il vostro agire è già diverso terzo è inevitabile che il vostro agire pur variato rispetto all'agire inconsapevole e vi conduca ad essere progressivamente so che detto così può infastidire vi conduce inevitabilmente ad essere dei funzionari della tecnica ma non della tecnica in quanto democrazia ma della tecnica come dicevo prima che ascolta la voce di quella follia rigorosa del sottosuolo del pensiero degli ultimi due secoli che dice non ci sono limiti ma voi siete anche oltre questa voce del sottosuolo perché voi avete sentito il discorso con la D maiuscola allora siete destinati a volere sempre più conformemente alla volontà di incrementare all'infinito la potenza liberandosi dalla gestione ideologica della potenza ma anche il tempo del trionfo dell'atenica è desiderato a finire dopodiché ci sarà un tempo detto così sembra perché è destinato a finire ecco tutto quello che ho detto così affrettatamente all'aria di un racconto un po' strano perché non si possono mostrare le fondamenta di quello che si dice ha maggior ragione se io rispondessi alla sua domanda ultima perché è destinato a finire proviamo a usare una metafora che però lascia il tempo che trova perché si possono adoperare le metafore perché questa bulimia non è progressiva bulimia? della tecnica non è? progressiva sì e allora? ecco allora già Keynes parlava in termini tali di quello che la tecnica avrebbe potuto fare in termini tali per cui si sarebbe potuto dire era cento anni fa che parlava si sarebbe potuto dire la tecnica è già in grado di risolvere i problemi principali dell'umanità di soddisfare i bisogni primari diceva lui i bisogni primari della società oggi dopo cento anni sa far ben di più perché non lo fa? perché gestite ideologicamente perché il capitalismo è il capitalismo a gettire la tecnica e quindi a produrre quei beni di consumo che possono essere comprati e non a produrre quei beni di consumo che andrebbero molto bene per chi ha bisogno ma chi ha bisogno non ha i soldi per comprarli e quindi il capitalismo non li produce però non ci avviamo verso una prospettiva in cui l'ideologia sembra contare sempre meno è quello che ho sostenuto nella prima parte del nostro ricorso quando dicevo che a un certo momento lo scopo dell'ideologia si riduce sarà occupato dal potenziamento della tecnica e quindi non avrà più freni la tecnica non avrà più freni che impediscano freni della potenza assolutamente quindi una tecnica capace di risolvere come mai è avvenuto i problemi del benessere della sopravvivenza dell'umanità non accade perché è gestita ideologicamente e soprattutto dal capitalismo ma quando la tecnica si fosse liberata si sarà liberata dall'ideologia dall'ideologia e allora quello potrebbe essere appunto ritornato a Keynes il paradiso della tecnica ma lei mi domandava perché è destinata anche la tecnica a tramonto paradiso vuol dire felicità benessere o nel frattempo ci sono i salisceni perché questo discorso è come una geometria rispetto a chi si occupa di politica deve conoscere e che ha il compito di costruire una città allora la geometria è astratta e quindi può ignorare come è il terreno su cui la città deve essere costruita però se si costruisce una città andando contro la geometria la città crolla quindi evviva l'astratto che rende possibile la concretezza della costruzione allora paradiso della tecnica felicità massima ma è il paradiso della tecnoscienza cioè di una potenza che in quanto scientificamente guidata è ipotetica ma questo accade anche in capo giuridico cioè in capo giuridico nella misura anche in cui anche il campo giuridico si allontana dal diritto naturale la tecnoscienza produce una felicità ipotetica e allora in che situazione ci si trova quando uno è felice ma gli si dice guarda però che la tua felicità ipotetica è stata verificata in modo empirico statistico probabilistico e con lui comincia a preoccuparsi ha raggiunto il massimo di felicità e questo massimo è inficiato dal fatto che la misurazione dal fatto che da un momento all'altro le regole del mondo potrebbero cambiare i corpi invece di andare verso il basso potrebbero andare verso l'alto rovesciare il processo antropico tutte le leggi della fisica rovesciarsi questa è una possibilità messa dalla scienza e allora il paradiso della scienza della tecnica diventa un inferno perché manca mancherà di un'unica cosa di quella verità incontrovertibile che è stata eliminata dagli ultimi due secoli del nostro tempo ma è stata eliminata in quanto era una verità che procedeva sulla base di quel diventare altro che è comune e alla tradizione e alla distruzione della tradizione ma noi non l'abbiamo messo forse in questione almeno abbozzato non l'abbiamo messo forse in questione questa base il chiodo il chiodo del quadro e allora è per questo che nei cosiddetti miei scritti c'è la presunzione di riproporre al di fuori del modo in cui la verità incontrovertibile si è presentata un altro senso della verità incontrovertibile in quell'altro senso alla cui ricerca andranno poi in un certo momento i popoli quando vedranno che l'unica cosa che manca è la verità incontrovertibile della loro felicità quindi i giovani io direi questa è la strada ma cercatela da soli è anche un calvario perché nel frattempo ci sono tutti quei problemi che i politici gli uomini potenti i potenti della terra devono risolvere ma tenendo presente che quello è il punto d'arrivo perché sarebbe come un treno che sta andando verso il polo nord se chi è sul treno crede di andare verso l'equatore combina dei guai si allontana dal polo nord verso cui il treno sta andando quindi per questo che dicevo prima la politica la grande politica è quella che si rende conto usando adesso la metafora del treno che il treno va al polo nord e non all'equatore non all'equatore professore io ho abusato tanto della sua disponibilità io le sono grato ma poi di questo gesto lei è il primo ministro e viene qui a ascoltare le cose di un filodofo è un gesto grande che me lo ricorderò e che mostra una grande intelligenza e poi congratulazioni per il modo in cui sta guidando questa difficile situazione italiana perché congratulazioni si cede credo che nessun presidente del consiglio si è trovato avere davanti problemi del genere che ha davanti lei dicendo andarcene fuori sono dei fotogrammi sono dei fotogrammi un po' complessi grazie davvero è stata un'occasione e penso anche che chi ci seguirà potrà giovarsi tanto di questa nostra conversazione il gioco non so se c'è no è su Eschio e questo forse può interessare e sto voglia di aggiungere però me lo devi dire c'è guardiamo qualcuno ha una penna una penna eccola qua per giunto con la penna del presidente si è una penna come si fa un personaggio così importante a fare una delica eh no gliela chiedi invece lei permette che dica con amicizia ma scherza sono onorato no col sole sono onorato ecco questo è uno Vittoria la ringrazio tanto Presidente no l'onora sono io che ringrazio a lei con amicizia grazie con l'attenzione per i modi in questo avviando di tè è una dedica che mi fa molto piacere davvero poi è suddiche suddiche quindi giustizia allora ancora tante grazie professore è stato davvero un piacere conoscere di persone a Camilla soprattutto e grazie per questo tempo che mi ha dedicato e tanti auguri per tutto quello che sta fuori che sta fuori anche a me certo cerco di impegnarmi cerchiamo di impegnarci nell'interessere adesso